ahahahahah ahahahahah musica musica ciao benvenuti in questo nuovo video io sono michele insieme a stefania oggi siamo qui insieme a questo si tratta di un giochino disponibile su gearbest costa 5 euro ma anche di meno trovate il link qui sotto in descrizione è davvero molto simpatico a stefania è piaciuto molto si chiama pirate ballers ma che inglese una cosa simile in realtà si tratta di una riproposizione di un gioco degli anni 80 inizio 90 il pirata popò nella volta al sicuro schizza come un siruro si diventa il popò gioca con il pirata popò mettilo nella botte ma stai attento si salta al verzo il pirata popò il pirata popò nella botte al sicuro schizza come un siruro segni i buchi popò adesso provo io ai popop il pirata più che un gioco un barile di risate è un'esclusiva giocheria magari qualcuno di voi lo conosce anche e qual è lo scopo del gioco vuoi dirlo tu? no facciamolo scoprire loro se non sanno qual è lo scopo del gioco come fanno a capire come si gioca? vabbè insomma dovete infilzare 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 che ogni volta che andate a premerla varia la posizione in cui si innesca quindi quando mettete le spade nei buchi se prendete il buco sbagliato il pirata schizza via e quando schizza via perdete no? si quindi cioè in teoria si perde questo è quello che ho capito io si da un obiettivo magari il primo che arriva a tre volte in cui fa schizzare il pirata via perde non so se avete capito io non ho capito tu hai capito? ok giochiamo proviamoci subito queste sono le spade e si può giocare fino in quattro credo quanti colori sono? blu verde rosso e giallo e quindi fino in quattro giocatori sasso carta forbice chi inizia dal primo? sasso carta forbice tu prendi le spade verdi io con le gialle come vedete qui ci sono tanti buchi ce ne sono 16 e solo uno farà schizzare via il pirata schizzare via qua facciamo che chi arriva a tre perde ok? vai per ora tutto bene vai stefania dovete dovete premere a fondo la spada dovete fare entrare bene dentro comunque è un regalo bellissimo per qualsiasi bambino dopo i sensi a parte ovviamente vai bene tocca a me ok no dai voglio vedere la reazione di stefania no è che il pirata dove è andato? là sotto spostati con la media 1 a 0 per stefania rimettete la bolla la molla dentro girate un po' e poi rimettete il pirata qui sopra iniziato ora perché io ho perso prima vai non posso perdere a sto gioco stupido contro stefania contro di tutto vai vediamo in quale buco lo metto mettiamolo ok ok ma perché non ti non viene mai quando metti tu la squadra dei ma non esce mai o sto sto video vado la metto dentro ovviamente la posizione della molla cambia sempre dove sono i buchi sono qui va dai dai altri quattro buchi e che che fortuna cioè ora schizzerà fuori ora schizzerà fuori complimenti 2 a 0 per stefania perdite le tue spade perché è così fortunata cioè oggi perdeva sempre insomma giochiamo ora e non perde più vai siamo 2 a 0 per stefania eh voglio fare almeno un punto almeno un punto lo voglio fare dai notare le reazioni di stefania esagerate credetemi non è finzione è davvero così questa ragazza da entrare bene la molla dentro con il vostro ditino e vado fotos E se fai da vince questo gioco Ok ragazzi dai è un gioco davvero simpatico come regalo per voi per i vostri Che cos'è sempre viene schizzo sto cosa va beh molto simpatico da fare magari con i vostri figli vostri nipoti Ma anche per giocare cinque minuti velocemente in compagnia non è un gioco molto Complimenti non è un gioco molto complessa alla fine cioè sarà capito stefania lo possono capire Ok amici fateci sapere cosa ne pensate di questo gioco davvero carino a te piace si trovate i Link qui sotto in descrizione per cosa per per comprarlo per comprarlo store di riferimento come sempre gear best ok E poi poi niente iscrivetevi al nostro canale telegram instagram facebook tutto in descrizione lasciate tanti be like Commentate e con i video ai vostri amici questo è tutto da michele e stefania sottovoce Questo è tutto e anche dal pirata ciao ragazzi ciao